Poco dopo le 2.30 della scorsa notte un forte boato ha svegliato i residenti di via Marconi e della zona limitrofa alla ex scuola elementare di Seren, dove trova posto il bancomat della Cassa Rurale Dolomiti. Ho sentito un gran colpo che passava davanti a casa mia, il portone che si muoveva bene insomma, e ho guardato fuori e ho visto del fumo, del fumo e delle persone che parlavano, poi basta. Poi dopo ho visto anche i carabinieri che sono passati, altre persone, ragazzi che forse erano al bar e hanno sentito anche loro come me, tutto qua. Pensavo fosse fuoco che qualcuno avesse fumato, buttato per terra la sigaretta, invece no, così è andata. Con l'ausilio di un esplosivo, forse polvere da sparo, i ladri hanno fatto saltare l'apparecchiatura bancomat impossessandosi di un bottino di circa 20.000 euro. Secondo i primi dati raccolti, si tratterebbe di una banda composta da quattro individui, dileguatisi poi a bordo di una Audi Station Wagon di colore scuro. Allertati dai vicini e da alcune persone presenti nella piazza del municipio, distante un centinaio di metri, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri per effettuare i primi rilievi e raccogliere alcune testimonianze. Mentre questa mattina gli uomini della scientifica hanno provveduto alle analisi più approfondite, presenti anche i referenti dell'istituto di credito giunti sul luogo per una prima valutazione dei danni. Il bancomat si trova, come detto, nello stabile dell'ex scuola elementare che ospita anche altri servizi, tra i quali la biblioteca, la farmacia e gli ambulatori dei medici di base, ed è prospicente alla casa di riposo per anziani Soteria. Nell'area sono posizionate alcune videocamere di sorveglianza, da cui gli inquirenti cercheranno ora elementi utili per tentare di risalire agli autori della spaccata. Come in altre occasioni simili, il raid è stato messo a segno nella nottata del venerdì, giorno nel quale i distributori di denaro sono maggiormente carichi in vista del fine settimana.